Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati a un nuovo blog. Eh sì, scusatemi, ho acconciato una pessima, ma ho provato a farmi le trecce. Allora, vi racconto, ieri sono stata a casa, tutto normale, e oggi ho fatto un bel po' di acquisti, oltre a quello sono stata a casa ad annoiarmi tutto il giorno, però ho detto tanto è l'ultima volta, perché ho detto tanto Giovanni non usciva, e ho pensato bene di prendermela comoda, di stare ancora un po' a casa. Vabbè, oltre a quello nulla, e spero che abbiate anche voi queste giornate in cui praticamente non fate nulla tutto il giorno, ma penso proprio di sì. Vabbè, e ho anche scoperto il posto dove andare a comprare una cosa che mi serve in generale per fare la patente. Sì, ho questo aiuto a questa mia amica, barra professoressa, dove è il posto, e poi in uno di questi giorni c'entrò. Allora, io adesso mi vado a posire, e noi ci vediamo domani con unissimo blog. Ciao!